Buongiorno carissimi, bentrovati in questo venerdì della seconda settimana del nostro tempo di Pasqua. Bene, la liturgia della parola di oggi ci presenta un brano tratto dagli Atti degli Apostoli. Siamo al capitolo quinto, dal versetto 34 al versetto 42, un famosissimo episodio che conosciamo bene del fariseo dottore della legge Gamaliele che si alzò lì nel sinedrio e volle parlare ai suoi componenti, furono portati via gli Apostoli, ricordiamoci come il sinedrio voleva mettere a morte questi uomini. Allora, pertanto Gamaliele prende la parola e dice, uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. E poi cita sia Teuda sia anche Giude e Galileo come hanno fatto un entourage attorno a loro ma poi tutta andata a finire a terra luce e vino. Ora, perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano, quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Bene, saggio Gamaliele che dà la possibilità così al sinedrio di riflettere bene, però c'è da dire che gli Apostoli furono comunque flagellati e gli fu intimato di parlare nel nome di Gesù. Quindi quella punta un po' di protagonismo, di comando, eccetera, alla fin fine il sinedrio l'ha voluto avere sopra gli Apostoli, i quali erano ben contenti di essere stati oltraggiati nel nome di Gesù. Quel Gesù che ritroviamo nel brano del Vangelo di oggi, siamo al capitolo sesto di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 15, è l'episodio del miracolo della moltiplicazione, della condivisione ecco, dei panni e dei pesci, quella condivisione che in pratica quel ragazzo ha messo a disposizione e quell'abbondanza che poi il Signore con i gesti eucaristici ha potuto donare a tutti gli astanti. 5.000 uomini si sedettero e furono saziati e avanzarono anche ceste che furono portate via, messe da parte, ecco, ceste dei pezzi avanzati. E quando Gesù sentì che volevano prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Bene, non di solo pani vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Benissimo, sia questo l'augurio che ci vogliamo fare in questa santa giornata, nel vivere della parola del Signore e vivere anche la nostra storia illuminata dalla presenza del Signore per poter essere uomini e donne saggi, da poter prendere le giuste decisioni e così essere costruttori sempre di un mondo più bello e migliore. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.